Iniziati questa mattina i casting del primo talent show Canoro che sarà realizzato dalla Buscemi Production e da Alpa 1. 30 i talenti d'età compresa tra i 5 e i 16 anni che potranno partecipare alla trasmissione Anch'io Canto. Le attese e audizioni sono partite oggi e proseguiranno anche domani e lunedì 31 agosto negli studi di Contrada Sasi ad Alcamo. Decine gli emozionati partecipanti al fianco di altrettanto emozionati genitori e familiari in attesa del loro turno per stringere in mano il microfono e mettere tutto l'impegno possibile nell'interpretare il brano prescelto. I casting saranno effettuati in due step. Inizialmente nella fase denominata di primo grado si avrà un primo ascolto di tutti i candidati a livello nazionale. Dopo questa prima scrematura successivamente saranno fissati i cosiddetti provini di secondo grado per riascoltare coloro che risulteranno in linea con le ricerche artistiche della trasmissione. La Kermesse si articolerà in 10 puntate. A confrontarsi sul palco saranno 30 piccoli cantanti per le prime 8 puntate mentre a contendersi la finale saranno in 15 e solo 7 potranno esibirsi nella finale di novembre. I finalisti concorreranno per aggiudicarsi la partecipazione al festival della canzone italiana di New York che si terrà a settembre 2016. A giudicare i talenti in gara sarà il pubblico da casa con il televoto insieme alla giuria di qualità. Special guest del talent sarà Antonino Buscemi di Ocanto 4, la fortunata trasmissione televisiva di Mediaset. Durante le serate si alterneranno ospiti di spessore nazionale tra cui Maria Celeste San Marco, ballerina dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, Franco Terlizzi ed altri. A condurre le puntate la spumeggiante Giussi Randazzo con a fianco nella finalissima il giornalista conduttore Michele Cucuzza. Grazie.